Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato da Confer ed alcuni cittadini di Manopello in relazione ai lavori della Ferrovia Pescara-Roma, ma il Comitato non si arrende. Con i singoli cittadini di Manopello aveva presentato il ricorso sui lotti 1 interporto da Abruzzo Manopello e 2 raddoppio tratta Manopello Scafa della Pescara-Roma per un totale di 13 km. Il Tar lo scorso 5 gennaio aveva rispinto il ricorso e ora, come detto, il Consiglio di Stato ha confermato quella sentenza. Ma la Presidente del Confer, Katia Colalungo, i cittadini scriveranno una lettera al Presidente Mattarella. Inoltre, Colalungo annuncia che se ci saranno i termini si ricorrerà anche all'Europa. Non si escludono manifestazioni pacifiche in piazza, visto che il progetto, così com'è, dicono a tante pecche. Intanto, oggi, le interrogazioni dei parlamentari D'Alfonso e Sottanelli. D'altro canto, per il Presidente Marsiglio si mette una pietra tombale su tutta la vicenda. Assolutamente no. La pietra loro ce la stanno mettendo e ce la vogliono mettere. Noi non ci fermeremo, ma più che altro perché questo tempo ci serve per poter continuare a far ragionare la politica, che non ci vuole sentire, non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Noi stiamo dicendo che l'intervento, se si vuole fare e come si sta facendo, non è l'intervento giusto per il territorio. Lo stiamo dicendo a tutti i livelli, amministrativi, provinciali, regionali, di governo. Abbiamo pronto una lettera per il Presidente della Repubblica e stiamo valutando anche le condizioni di un falso ideologico, perché noi usciamo fuori da un dibattito pubblico con una soluzione della variante, che sposta fuori dai centri abitati il tracciato ferroviario, rivalutando il territorio urbano. Questo è un intervento veramente importante ed utile per il territorio. Si parla di Roma Pescara, ma in realtà stiamo parlando di Brecciarola Scafa, scarso 13 chilometri, 95 milioni di esproprio, perché ad oggi stanno arrivando in maniera abbastanza critica anche questa lettera di esproprio e di presa in possesso. Perché? Perché stanno arrivando solo ai terreni e alle soluzioni più facili, ai fabbricati, le aziende che verranno distrutti, ai cittadini che dovranno lasciare la casa. Non è detto nulla. Corrisar ci metti anche Risori, dice, e poi prosegue, non c'è stato un incontro con RFI. Noi abbiamo avuto audizione in Commissione Capigruppo in Regione, doveva essere presente anche RFI. RFI ha desertato l'incontro. Sono più volte che il consigliere Antonio Di Marco chiede questo incontro con RFI in Regione, ad oggi non c'è. Noi abbiamo pronta una relazione da sottoporre alla Commissione Infrastrutture, quindi noi non ci fermiamo. Luca Angrilli, che è un residente di Brecciarola, sono arrivati questi provvedimenti urgenti. Nel senso che alcune cose avevano garantito sia RFI che le istituzioni, che sarebbero state vicini ai cittadini. Onestamente questi provvedimenti di urgenza, ricevuti venerdì, il 12 luglio, e che ci comunicano che il 30 luglio, quindi a distanza di pochi giorni, vengono a prendere possesso del terreno e tra l'altro, in barba a tutto quello che ci avevano detto, ci offrono quattro soldi. Mi sembra fondamentalmente darci un calcio nel posteriore, per non voler essere volgare. PEC dei nostri legali, in risposte, telefonate, in risposte. Cioè, cittadini abbandonati completamente.